Mezz'ora con Stile in compagnia di Alberto Pandolfo, intanto benvenuto. Grazie, grazie a voi dell'invito. Consigliere comunale, ma quest'oggi vogliamo interrogarti, diciamo così, sapere un po' quella che è la tua idea di stile, ma non solo. Comunque il filo rouge della manifestazione è stato questo, quindi ti chiediamo intanto qual è la tua idea di stile. Beh, io penso che lo stile sia un insieme di comportamenti che in qualche modo caratterizzano e identificano una persona piuttosto che un'architettura, un'arte, e quindi in qualche modo danno l'identità, danno il biglietto da visita di una persona, di un elemento, di un oggetto, e quindi sono un insieme di caratteristiche che poi danno quell'impronta e quello specifico messaggio che la persona vuol trasmettere oppure che chi realizza un'opera vuole trasmettere, appunto. E parlando di persone, lo stile, diciamo, personale, quindi come anche una persona si rapporta con gli altri, eccetera, si può cambiare? Secondo te ognuno nasce con uno stile? No, secondo me c'è una frase di una famosa, appunto, stilista che dice che la moda passa mentre lo stile resta, e io penso che lo stile resti, nel senso è un'identità proprio e quindi in qualche modo è difficile poterlo modificare, certamente si possono trovare tutti gli artifici volendo mascherarsi, ma lo stile rimane, quindi quello è specifico e preciso, quindi difficilmente lo riesci a cambiare. Il stile è inteso come appunto moda, quindi anche modo di vestirsi, di, insomma, presentarsi, visto che lei diceva che è un biglietto da visita, in effetti è così? Sì, 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 quello ha appunto dei suoi significati e delle sue declinazioni, cioè appunto chi ha un ruolo in qualche modo e quindi è costretto a doversi presentare in un certo modo e chi invece può liberamente manifestarsi, addirittura proprio in Consiglio Comunale. È curioso perché nei tempi passati esisteva una regola che senza la giacca e la cravatta non si poteva accedere a quella che è l'aula che rappresenta le istanze dei cittadini genovesi, non solo le rappresenta ma tenta di risolverle. E io credo che non è la volontà di ripristinare un formalismo, ma è la volontà di rendere, di dare onore a quel luogo. Non penso che, insomma, si debbano reintrodurre norme di questo tipo, ma le giustifico e le comprendo, soprattutto in tempi diversi dai nostri. In tempi in cui non esiste più l'abito della domenica, diciamo così. Esatto, esatto. Però sono tutti elementi di, allo stesso modo, come dicevo, di identità che identificano, che danno un significato non solo pratico, ma anche formale al luogo in cui ci si trova. Ecco, lei è molto elegante quest'oggi. È il suo stile professionale o nel tempo libero? Sì, io infatti, oggi sono vestito spezzato. È elegantissimo. Sì, nel senso, come mi sento a mio agio io esco di casa, che sia sabato, domenica, lunedì, nel senso, naturalmente sapendo dove devo andare, che cosa devo fare. Adesso ne vengo dalla commissione comunale. Oggi pomeriggio ci ritornerò. So che non ho il tempo di muovermi e spostarmi passando da casa e quindi faccio certe scelte. Ma dicevo, lo stile coinvolge anche una serie di comportamenti che identificano comunque una persona. Per esempio, se va a cena con una ragazza, chi paga il conto? L'uomo. Sempre? Sì. Perché al giorno d'oggi non è così scontato. Avete voluto la parità e adesso... No, penso che ci siano degli elementi appunto di... che siano imprescindibili al di là dei tempi. Ecco, quindi... Sicuramente pago io. Anche facendo qualche forzatura ogni tanto perché c'è chi sente l'esa la sua. Per esempio, ecco, una cosa che io dico sempre che non misuro mai la mia predominanza facendo, per esempio, guidare l'uomo in macchina rispetto alla donna. Anzi, io se guido la donna... Si fida? Sì, mi fido. Nei posteggi anche. Nei posteggi anche, magari quelli li faccio io. Eh, vabbè, questa è anche un'idea. In valigia, per andare a fare un viaggio che cosa non può mancare mai? Indipendentemente dal luogo dove si va. Eh, io gli occhiali da sole. Li porto sempre, nel senso che mi trovo poi a volte in situazioni in cui preferisco averli perché mi dà fastidio la luce. Ecco, quindi quello è un elemento che io porto sempre. Li ha comprati seguendo il gusto della moda? Del tendenze, diciamo? Ecco, proprio su questo. Io è un oggetto, per esempio, quello siccome sono abbastanza patito che trovo solo... Cioè, che mi piacciono quelli artigianali. Non mi piacciono gli occhiali... Mi piacciono gli occhiali che sono unici, che hanno un... che definiscono, identificano un carattere. Non cose, diciamo, scontate o... Quindi sono appassionato... Quindi li ha scelti con molta attenzione, e andati a cercare. Sì, io non porto gli occhiali da vista, quindi mi sbizzarisco con gli occhiali da sola. E ne ha, diciamo, diversi modelli in base a... Sì, sì, diversi in base, magari... A volte mi sono trovato in occasione di trovarli, cioè di doverli comprare, perché me li ero dimenticati, e quindi li ho trovati in... Poi vedo che anche in città diverse se ne fanno utilizzi diversi, ci sono tendenze diverse, ecco, e quindi quelle manifestano uno stile di un luogo, e però sono tutti elementi sempre artigianali, che danno un plus sicuramente all'unicità, al prodotto. Assolutamente, è proprio il tema anche di questa manifestazione, quindi certamente è molto pertinente. Tra l'altro, si diceva stile, modo di comportarsi, lei ha parlato anche dello stile in Consiglio Comunale, comunque. Sì. Cadute di stile? Le cadute di stile? Le cadute di stile, secondo me, sono dei fatti piuttosto gravi, perché oltre, diciamo, all'errore, danno anche, trasmettono anche la delusione, perché una caduta di stile è un fatto inaspettato per il proprio interlocutore, cioè per l'interlocutore che uno ha davanti. Quindi, dice, chi riconosce una caduta di stile riconosce non solo l'errore, ma anche una delusione che ha dato a un'altra persona. E come reagire davanti a una persona che ha appena, insomma, effettuato uno scivolone, diciamo così, far finta di niente? Ce ne sono di diverso tipo. Alcune creano ilarità e quindi io non mi trattengo, quindi rido. Dopodiché uno cerca di farlo notare nel modo più appropriato possibile. Ecco, se si trova in un contesto pubblico e c'è qualcuno che fa un errore, magari gli sgrani gli occhi un attimo e cerchi di trasmettere la difficoltà. Ci sono tanti modi. Oppure, se invece è una cosa inopportuna, in un luogo serio, detta una caduta di stile che in qualche modo genera un errore dei fraintendimenti, va subito tamponata. Parlava di cose inopportune sui social network, ce ne sono molte? Molte, moltissime. Io sto trasmettendo questa consonanza. Mi ritrovo spesso a vedere dibattiti online, che siano sui social network, piuttosto anche che comunque sia scritti in rete, che li paragono a l'uomo davanti alla tastiera, l'uomo la donna, sono come dietro al volante di una macchina. si sentono, diciamo, liberi e in cui tutto è concesso. Tutti un po' si trasformano al volante, perché si creano dei nervosismi, si creano... E allo stesso modo, dietro la tastiera di un computer, moltissime persone si trasformano, pensando di essere anonime. Io... Mi è capitato ultimamente. Era, ahimè, un commerciante, che con il profilo del negozio commentava in maniera inopportuna, proprio una seduta di una commissione consigliare, e ho deciso subito di chiamarlo al telefono. Avevo il numero di telefono, l'ho chiamato. E ho trovato una reazione che mi ha confermato esattamente quello che supponevo, ossia una situazione di imbarazzo. Di imbarazzo, perché non si aspettava che io lo chiamassi al telefono. Quindi ho preferito non rispondere pubblicamente solo per ritrovare un elemento di frizione. Mi è capitato, ho preso il telefono e ho preferito. Quindi il social network va... È un grandissimo pregio, nel senso si riesce a comunicare con tantissime persone in poco tempo, a dare delle informazioni, però nello specifico anche l'email. E quante volte, nei tempi più passati, più recenti, abbiamo visto le mailing list o le discussioni via mail che assumono caratteri di dimensioni, di coinvolgimenti, di inopportuni. Quindi ci vorrebbero un po' le istruzioni per l'uso, diciamo, per dei social network. Sì, sì, esistono, ma dovrebbero essere un po' più applicate. Assolutamente. Twitter lo ha? Io ho Twitter, sì. Quindi 140 caratteri, sa benissimo come utilizzarli per esprimere un concetto. Sì, sì, sì. Ecco, vogliamo esprimere un messaggio, un suo messaggio su stile artigiano, sullo stile, sull'artigianato che è un'altra sua passione, abbiamo capito comunque. Sì, 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 assolutamente. Che cosa possiamo twittare? Ma allora, lo stile, in tutte le sue declinazioni, secondo me, in tutte le sue rappresentazioni, lo stile artigiano è unico, sicuramente, lo dicevo prima, è anche in qualche modo sano e genuino, nel senso che ha un'evoluzione. Quindi, diciamo, se dovessimo anche fare una rima, possiamo dire stile artigiano, unico e sano. Perfetto. Perché ha la genuinità dei prodotti che nascono da, appunto, dalle mani, dalla manualità, da un modo che è non replicabile in serie, di solito. Esatto, quindi lo stile artigiano è unico e sano. Esatto. Anche la rima, quindi, insomma, non ci facciamo mancare niente. Hashtag? Hashtag mettiamo, allora, abbiamo messo unico. So che non si vede niente perché ho lo schermo rotto, però ci prendiamo. Lo stile artigiano è unico e sano. Mettiamo la genuinità. Genuinità, come hashtag. Esatto. Dei prodotti. Dei prodotti. Genuinità e prodotti. Sì, esatto. Va bene. Caratteristica è la genuinità dei prodotti dello stile artigiano. Allora, quindi questo è il tweet che poi ovviamente facciamo con il nostro profilo, stile artigiano, ma riproporremo anche sul suo profilo e adesso ci vuole un selfie. Volentieri. Va molto di modo, lo sappiamo, li fanno tutti. Ormai. Lei ne fa? Sì, sì, ogni tanto sì. Dove li fa di solito i selfie? Con gli amici, da solo, davanti allo specchio? No, davanti allo specchio no. li faccio con gli amici nei luoghi che mi piacciono. Per esempio, ne ho fatto uno a Bocca d'Assi con dei miei amici che sono venuti a trovarmi da fuori che li ho accompagnati per farli vedere e allora li abbiamo fatto... Ma perché va più di moda il selfie adesso che come andava di moda una volta a chiedere scusi, mi fa una foto? Ma perché a Genova va benissimo perché non c'è nessuno che... Che ti fa una foto. è sia difficile spingersi a chiederla che trovare qualcuno a farla e quindi... Facciamo tutto da solito. Per esempio, a me, un mio amico a Firenze dove sono invece molto più simpatici, aperti, cosa faceva? Questa era un'infamata diciamo, ai giapponesi che magari attraversavano l'universo mondiale e quindi i fiorentini si trovavano tutti i giorni a dover fare foto. lui cosa faceva? Diceva sì sì te la faccio poi gliela faceva siccome non esistevano fotografando qualcos'altro così questi tornarono. Sono stati contentissimi una volta tornati. Quindi tutto sommato il selfie ha risolto un sacco di problemi. Allora in questo caso il messaggio sarebbe chi fa da sé fa per tre e quindi... Togliamo il microfono. Bene. Selfie fatto. Ora tweetiamo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito e dell'intervista. Grazie. Grazie. Grazie.